Mi spiace dire che la notizia di stamattina di queste importantissime indagini non riesce a venire qui, credo, il procuratore Melillo, anche proprio perché è sormesso dal lavoro che anche da questo importante spunto investigativo gli è derivato in questa giornata, ma mi ferisce doppiamente perché riguarda anche un territorio, quella della mia città di origine, Avellino, insomma la Campania, che so avere tradizioni ben diverse. Quindi questo è un ulteriore campanello di allarme di come la cultura, il seme dell'odio, si diffonde anche in contesti in cui non avremmo mai immaginato.